Scusa la domanda Fai intanto a dire Fai intanto a dire No, hai intanto a dire YouTube C'è tutti Pubblico Faccio una con lui C'è qualcuno che ho la scala E' rotta? Ah C'è parte La scala Applausi Non c'è parte Adopito C'è parte Di la scala Ingeni Fai intanto Nelan No Grazie a tutti 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 Grazie a tutti